Tre anni di reclusione all'ex manager dell'ASL di Teramo Giustino Varrassi per peculato e per abuso d'ufficio, un anno al suo ex autista Giovanni Lanci per appropriazione in debita, truffa e falso, e quattro mesi all'ex direttore amministrativo Lucio Ambrosi e all'ex direttore sanitario Camillo Antelli per abuso d'ufficio, mentre sia Varrassi che Lanci sono stati assolti da alcuni capi di imputazione relativi sempre alla truffa aggravata. Sono le condanne inflitte dai giudici del Tribunale di Teramo nell'ambito del processo per l'indebito utilizzo dell'auto blu da parte di Varrassi e del suo ex autista e sulla promozione dell'urologo Corrado Robimarga. Processo che vedeva davanti ai giudici anche i dirigenti Maurizio Di Giosia, Vittorio Scuteri, Corrado Foglia e Gabriella Palmeri, componenti della commissione d'inchiesta chiamata a decidere sul procedimento disciplinare di Robimarga, allora coinvolto in un'altra inchiesta e finiti a processo per abuso d'ufficio e poi assolti da ogni accusa. Il processo terminato ieri pomeriggio aveva riunito le due inchieste principali aperte nel 2012 dal PM Davide Rosati sulla ASL di Teramo, quella sul presunto indebito utilizzo dell'auto blu e quella sulla promozione dell'urologo. Inchiesta quest'ultima che vedeva Varrassi, Antelli, Ambrosi, Di Giosia, Scuteri, Foglia e Palmeri rispondere di abuso d'ufficio in merito all'affidamento a Robimarga dell'unità di urologia endoscopica di Giulianova. Affidamento che, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto a dispetto dell'inchiesta penale che in quel momento vedeva coinvolto il medico e per la quale sono stati condannati Varrassi, Antelli e Ambrosi e con la commissione disciplinare che avrebbe indebitamente sospeso la procedura disciplinare a carico dell'urologo. Ed è proprio sulla vicenda relativa alla questione Robimarga che ieri, nel corso delle repliche, era tornato lo stesso PM Rosati che aveva chiesto e ottenuto di acquisire agli atti la documentazione con cui la Procura Generale, presso la Corte dei Conti, contesta a Robimarga. In relazione al procedimento per il quale è stato condannato in corte d'appello ad un anno e otto mesi per truffa e falso un danno patrimoniale di 20.000 euro e un danno di immagine di altrettanti 20.000 euro. I giudici hanno concesso la sospensione della pena per Lanci, Antelli e Ambrosi e disposto per Varrassi l'interdizione dai pubblici uffici per due anni e due mesi. Dopo la lettura della sentenza, l'ex numero uno dell'Asla di Teramo, Giustino Varrassi, ha deciso di non rilasciare commenti.